La sala è gremita, facce vecchie, facce nuove, le diverse anime del PD toscano, tutte insieme appassionatamente per il congresso regionale che a Prato, il comune governato dal centrodestra da riconquistare, ha proclamato nuovo segretario e deputato Dario Parrini, 41 anni, ex sindaco di Vinci, candidato unico renziano, così come il suo predecessore Ivan Ferrucci, il traghettatore cuperliano, che al momento dell'elezione, sette mesi fa, si disse pronto a farsi da parte in nome dell'unità del partito, e così ha fatto. Il futuro si prepara, non si aspetta, è lo slogan con cui Parrini inizia il suo mandato in Toscana, nel nome dell'innovazione e della lotta alle rendite finanziarie. Noi dobbiamo essere i nemici più acerrimi di chi vuole il perpetuarsi delle rendite, dobbiamo essere invece amici di chi vuole la rendita del fare, di chi vuole creare imprese, di chi vuole investire nella nostra regione, di chi vuole creare posti di lavoro. E a chi gli chiede se il PD toscano dovrebbe fare autocritica per gli errori del passato, a partire dalle divisioni interne, così Parrini risponde. Ho l'ossessione del futuro, dobbiamo guardare avanti, abbiamo la fortuna di poter intraprendere un lavoro in maniera unitaria, quindi possiamo davvero mettere nel cassetto polemiche e recriminazioni, e concentrarci sulle cose da fare, che sono quelle che abbiamo detto, soprattutto dobbiamo concentrarci a fare tutto quanto al nostro potere per ridurre la sofferenza sociale e per rilanciare l'economia della nostra regione.